I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dei vertici dei mandamenti e delle famiglie mafiose di Cosa Nostra Agrigentina. L'imponente blizzo, ordinato nella notte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, con il nome in codice Operazione Montagna, è stato eseguito da 400 militari supportati da un elicottero dello squadrone eliportato Gacciatori Sicilia e da Unità Cinofile. L'operazione ha di fatto disarticolato i mandamenti di Sant'Elisabetta Sciacca e 16 famiglie mafiose della provincia. Arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella. Documentati stretti collegamenti con i vertici delle cosche di quasi tutta la Sicilia e collendrine calabresi. Accertate anche estorsione ai danni di 27 aziende ed un fiorente traffico di droga. Il pizzo veniva preteso anche dalle cooperative per la gestione degli immigrati richiedenti asilo. Sequestrate sette società. Decine di perquisizioni sono ancora in corso.